Buona domenica a tutti ragazze e ragazze, triste notizia dalla rete Mediaset per i fan di Erken Cikus. Voci fondate annunciano che la prossima sopa estiva sarà Servegili Jack Miss, già tradotto il titolo in italiano Sisterhood. Manca meno di due mesi e la stagione estiva i palinsesti Mediaset stanno vivendo un po' di crisi. Quindi sicuramente sarà una sopa estiva da lietare i nostri pomeriggi estivi. Ma non sarà purtroppo Erken Cikus come in tanti speravano con il nostro Jean Yaman e Demet Odemir, ma questa nuova sop turca. Si mormora che sui set al momento non è possibile girare pellicole così come registrare in sale di doppiaggio causa la pandemia. Per questo motivo Mediaset ricorre ai ripari, ma qualcuno l'estate dovrà pure andare in onda e Mediaset molto probabilmente ha puntato su Servegili Jack Miss, la serie che porterà sullo schermo dei nuovi protagonisti che il pubblico molto probabilmente apprezzerà sia loro che anche la trama. La serie in questione è composta da 8 episodi di 2 ore e quindi se confermata, io spero di no, avremo 2 ore di programmazione da lunedì al venerdì ogni pomeriggio. La storia parla di tre sorelle e legnare dell'esistenza una dell'altra. La loro vita cambierà quando una lettera comunicherà loro di avere una famiglia. Le ragazze allora decideranno di incontrarsi e lo faranno proprio al matrimonio di una di loro. Arriveranno in un luogo incantato dove troveranno l'erede di numerosi vigneti fino a quando qualcosa va storto e le tre sorelle rimarranno incastrate. Vedremo ragazze che cosa accadrà. Vi auguro una buona domenica.